le parti di Balzarini ma non vi riesce, non vi riesce quasi mai, ancora un'azione d'attacco del Milan, Rivera, Mora, non vi riesce, non vi riesce quasi mai, ancora un'azione d'attacco del Milan, Rivera, Mora, Amarildo ed è il gol del 3-0, resta a terra Rossi e Amarildo va a consolarlo per la botta subita e per il terzo gol che è stato costretto ad incassare la parte di Balzarini.